Prostrato a terra, in preghiera silenziosa, davanti all'altare. Così Papa Francesco ha dato inizio alla celebrazione della Passione del Signore che ha presieduto nella Basilica di San Pietro. In mezzo agli sconvolgimenti del mondo, ha sottolineato il predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa, nell'Omelia, la croce non sta immobile, come ricordo di un evento passato o un puro simbolo, ma come una realtà in atto, viva e operante. Per dare senso a tutta la sofferenza che c'è stata e ci sarà nella storia umana. La croce, ha proseguito il predicatore francescano, è proclamazione vivente che la vittoria finale non è di chi fa soffrire, ma di chi soffre. Perché la morte di Gesù ha cambiato il volto della storia, una morte violenta, ha ricordato padre Cantalamessa, come quella dei bimbi siriani straziati dalle armi chimiche, come quella brutale dei 38 cristiani copti uccisi in Egitto la Domenica delle Palme. Eppure la morte di Gesù viene ricordata ancora, dopo duemila anni. Il predicatore ha poi preso spunto dall'immagine del crocifisso dipinto da Salvador Dalì, sospeso tra cielo ed acqua, elemento liquido del mondo come la società di oggi, liquida senza più punti fermi e valori indiscussi. Sullo sfondo c'è anche una nube che potrebbe alludere alla nube atomica, ha spiegato, ma c'è soprattutto una certezza, c'è speranza anche per una società liquida come la nostra, perché al di sopra di essa sta la croce di Cristo. Il monito finale è stato quello di non fermarsi a guardare solo al cuore duro, di pietra che può esserci nell'umanità, ma come Cristo che non è venuto a spiegare le cose, piuttosto a cambiarle, mettere in ciascuno un cuore di carne, attento al grido di chi soffre. Grazie a tutti.